Oggi vi presento il libro Catizzi di Catarina Taicon, edito da Iperborea. Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo, Catizzi è una bambina rom di otto anni. Con il suo spirito libero è l'eroina dell'istituto in cui vive, sempre pronta a sfidare la severa direttrice. Tutto cambia il giorno in cui all'improvviso arriva suo padre a prenderla. Catizzi scopre di avere una grande famiglia che abita in un carrozzone, indossa vestiti da fiaba, suona il violino e la batteria e gestisce ovvero l'una parte. Comincia così la sua nuova vita ricca di meravigliose sorprese, ma anche di tante difficoltà, per lei difficili da capire. Insieme alle sorelle Rosa e Lena, Catizzi deve lavorare ogni giorno e prendersi cura dei fratelli minori, nati dal secondo matrimonio del padre, con una donna svedese che sa solo lamentarsi e dare ordini. Ma perché non possono vivere in una casa vera, o fermarsi in un posto senza essere sempre cacciati, o andare a scuola come tutti gli altri bambini? Si ostina a chiedersi Catizzi che non è certo il tipo da arrendersi alle ingiustizie e rinunciare ai suoi sogni. Ispirandosi alla propria storia personale, Catarina Taicon ha scritto 13 libri sulle avventure di Catizzi e la sua famiglia Roma. Dopo il successo negli anni 70, la serie è stata oggi riscoperta per la capacità di raccontare i pregiudizi e l'esclusione attraverso lo sguardo innocente e vivace di una bambina. Questo bellissimo libro è Catizzi di Catarina Taicon, edito da Iperborea.